La dama velata, ultima puntata, Clara vuole vendicarsi di tutti. La dama velata arriva alla resa dei conti con l'ultima puntata. Dopo il tentato omicidio che Clara ha subito, è pronta a tutto per scoprire chi ha tentato di toglierle la vita e vendicarsi di tutte le persone che hanno provato a distruggerla. Naturalmente, però, non mancano sorprese e colpi di scena in una fiction, che resta tra le più famose della Rai anche a distanza di molti anni. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La dama velata, dove eravamo rimasti. Guido torna da Bruges dopo aver ricevuto il finanziamento che voleva dalla baronessa. Ben presto, però, l'uomo si accorge che non potrà mai aprire il setificio come sognava, perché l'accordo che ha stipulato all'insaputa del socio Ludovico è nullo. Clara sospetta che il marito la stia tradendo con la baronessa de Blemont e lo mette alle strette, ma lui reagisce con aggressività e la invita a non pensare più a certe cose sul suo conto. Clara si sente sempre più debole e malata così Guido, senza ascoltare il parere della moglie, assume Cecile, una bambinaia che possa occuparsi di Aurora. Ludovico perde la vita e tutti i sospetti si concentrano su Guido, mentre Clara ha allucinazioni e perde il senso della realtà. La dama velata, ultima puntata. Clara vuole scoprire chi ha tentato di assassinarla. Dopo l'episodio di allucinazioni, Clara si risveglia in una clinica psichiatrica. Capisce ben presto che si tratta di un tentativo di assassinarla e ne ha la conferma quando viene a sapere che si è trattato di un avvelenamento da Laudano. Conscia di non avere problemi mentali, Clara approfitta di una distrazione dei medici per fuggire dall'ospedale e trovare chi ha provato a toglierle la vita. Sospettando di Adelaide, Cornelio e Guido, Clara cerca per prima cosa di raggiungere Matteo a San Leonardo, ma viene inseguita e finisce priva di sensi nelle acque del fiume. La giovane non viene ritrovata ma, al suo posto, vengono ritrovate le scarpe con cui era finita nell'Adige. Di conseguenza tutti credono con sufficiente sicurezza che abbia perso la vita. Clara in realtà è viva e, coprendosi il volto con una veletta nera, si fa assumere da Matilde come dama di compagnia e finge di chiamarsi Emilia di Sant'Ubert. Attraverso la zia, la protagonista cerca di inserirsi nuovamente nelle vicende di Palazzo grandi e ha l'occasione di capire chi ha provato ad avvelenarla. Guido non è per niente sconvolto per la presunta morte della moglie e, al contrario, continua a trascorrere molto tempo con la baronessa de Blemont. La dama velata, ultima puntata. Clara fa arrestare Guido. Clara inizia a pianificare la sua vendetta mentre continua a fingere di essere soltanto la dama di compagnia di Matilde. L'intenzione della dama è quella di cominciare a vendicarsi proprio da Adelaide, che ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote, in tutti i modi sin da quando l'ha conosciuta. Durante le sue indagini, Clara fa emergere delle prove che dimostrano che è stato Guido a provare ad assassinarla. Dopo averle fatte emergere, Guido viene indagato per istigazione al suicidio. Ormai le autorità sospettano di lui anche per quanto riguarda la morte di Ludovico, così Guido viene arrestato. Clara può dire di aver ottenuto ciò che voleva dato che ormai la sorte del marito è segnata. Resta ancora Adelaide, così Clara inizia a cercare di vendicarsi di lei come progettato. Una confessione inaspettata della donna, però, la porta a scoprire dettagli importanti ed inaspettati, sulla sua nascita che rivoluzionano quello che ha sempre creduto. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo finale della Dama velata ed avete seguito con piacere la fiction? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!